L'ultimo di questi messaggi è stato diffuso di recente in occasione della conclusione delle Olimpiadi di Parigi 2024, durante il quale i futuri sovrani d'Inghilterra si sono congratulati con gli atleti che hanno partecipato alle gare. I principi del Galles, però, hanno voluto esprimere il loro cordoglio anche in un'altra occasione dolorosa, inviando una lettera di condoglianze alla vedova di un uomo che avevano incontrato una sola volta. Nell'aprile del 2023, Kate e William si erano recati al Dowlice Rugby Club di Mertir Tidfil, dove avevano avuto un incontro con la squadra di soccorso alpino del Central Beacons. Durante quell'occasione i principi del Galles avevano distribuito pizze di vario tipo, acquistate da un furgone di cibo da asporto, il Little Dragon Pizza Van, gestito dall'imprenditore Peter Morris quattro mesi dopo quell'incontro. Peter Morris ha ricevuto una diagnosi di cancro, che lo ha portato alla morte nel maggio seguente. In occasione del suo funerale, William e Kate hanno voluto inviare un messaggio di condoglianze alla moglie di Morris, Tracy. Come riportato da The Sun, nella lettera si può leggere, possiamo solo iniziare a immaginare quale immenso buco lascerà nella tua vita, e il mio cuore è rivolto a te, e alla tua famiglia. Kate e io abbiamo apprezzato moltissimo l'incontro con Peter. Peter. Volevo che tu sapessi quanto tu, e la tua famiglia siete nei nostri pensieri in questo momento.